Per me, come sta bene? Bel Cap 기 край Allora, quelli in live Vado Thi Assuri Auguri! Per sorpresa! Avevo paura di venire! Paura? Di che? Non lo so, che... che non mi volevi vedere! Perché no? Tu come stai? Cammino bene! Ci sono ancora delle tue cose a casa! Vuoi buttare tutto? Non voglio buttare tutto! Vieni a prenderle quando vuoi! Ma togli le chiavi! Non li porto se vuoi! Usciamo un attimo! Voglio buttare un po'! Ehi! Ehi! Guarda un po' chi c'è lei, Nadine! Francesca! Buonasera! Non c'è lei da lasciare! Vorando! Vorando! Qua' è stata? Qua' è stata? No, no, no!